di poni ma intanto ma c'è ragazzi scusate ma Filippo Nardi cos'è si è bevuto il cervello no no io voglio ringraziare la produzione per questa meravigliosa ti ho lasciato una persona seria e ti ritrovo così no no direttore guardi io sono felice che mi hanno offerto spa tutto il giorno trattamente di ogni genere sono depilato sono liscio come un'anguilla sì ma chi se ne frega scusi eh mi devo preparare sono vent'anni che non vengo in là De Grenet faccia un commento scusi eh no guarda magari fosse vero quello che sta dicendo di certo tipo i bravissimi in isolamento in attesa di te ecco bravi ma presto mi avrete Sonia sei emozionata? emozionatissima ascolto le ginocchia che fanno Giacomo Giacomo eh vedrai tra poco che bel casino tesoro allora Nardi sì direttore dica ma tu lo sapevi che forse avresti potuto chiamare la contessa de Blanc nonna? no mamma che no mamma che no no mamma che no no mamma che no diciamo Grazie a tutti.